È un impegno affinché con il ricordo possiamo sicuramente arrivare a incidere nelle forme di schiavitù che i bambini in tutto il mondo vivono oppressi dal male. Ogni bambino deve essere liberato, è l'appello che arriva al cuore di tutti i battezzati, i credenti, non credenti, in coloro che sono uomini di buona volontà, donne, uomini, bambini, anziani, i nonni. Ogni bambino deve essere liberato ed è per questo che per 25 anni Mater non fa altro che ricordarlo, ribadirlo, risottolinearlo, ma soprattutto operando nell'amore, perché solo nell'amore noi possiamo sconfiggere queste forme di schiavitù così aberranti e così inaudite.